Vediamo insieme la WBasket per il mio fidanzato. Sono andata a fare un po' di acquisti, ora vi mostro cosa vado a mettere all'interno di questa zucchetta. Da Mondadori ho preso il libro di One More Time, lui è in fissa, si guarda tutti i podcast, quindi ho detto prendiamoglielo, tanto gli ho il cartellino della zucca. Ok, libro messo. Ho da GameStop che gli ho preso il Funko Pop. È ossessionato da sti cosi, io non so perché. Praticamente questa WBasket è piena con queste due cose, però c'è ancora tutta questa roba da mettere. Adesso vi mostro cosa ho preso e poi le accompagniamo mano a mano. A Leop ho preso questi calzini. Da Leop ho preso questo braccialetto per la calma, con le pietrine viola, il viola è il suo colore preferito. Da DM ho preso queste due maschere, perché adesso gli piace la skin care, quindi sta bene. Poi dai cinesi, questo ramoscello autunnale, per ricordare un po' della WBasket, magari glielo appiccico tipo qua. Tiger, ho preso questi occhi di cioccolato, stra carini, vorrei mangiarmene uno io sinceramente, vabbè. Ho questo, che gli piace. Questa zucchetta tipo, se si vede, stra carina, troppo bellina. Questo libricino è pieno di baci, devo finire di farli, no, carino. E voilà, la mia WBasket è pronta, è super carina, non vedo l'ora di dargliela, spero che gli piaccia. A voi piace, fatemi sapere se anche voi l'avete fatta ai vostri fidanzati o alle vostre fidanzate. Ciao ciao! Oggi siamo qui, no, oggi ti do la WBasket. Tutta spoilerata, no, no, e poi mi dico che sono riki. Ma cos'è, starò? Oh, sgraziata. No, l'hai rotto. Io non ho rotto niente. L'hai rotto. Io non ho rotto niente. Il cacchia rotto. Io penso fosse l'ammorbidente quello che metti nei vestiti. No! Poi passiamo a questi fantastici calzini. Non è taglia, è tala, tala. Sì, è tala, giusto. Questo, ragazzi, è il podcast migliore del mondo. Sì, sta finendo il video. Io guardo ogni episodio di Luca Casadei. Luca Casadei, quando mi... Basta! Poi! Poi! No, questo è fighissimo. Io lo vorrei un botto. Io fai anche un botto. Così. Chiudi qua. Allora, il Popendez. Allora, questo me l'hai preso anche a Modena. A Bologna. Sì, però non l'ho ancora usato a Modena. Avevo usato l'altro. E questo è all'aloe. Quindi due mascherina. Questa è la buca, quella all'aloe. Cazziamo. Ecco, questo qua è il bracciale della calma. Perché ti servirebbe. Direi di metterlo... Intento che lo ruvo. Tipo immediatamente. Mettiamo subito. E poi perché ho preso viola? Perché è purple. È il tuo colore preferito. Poi c'è questo qua. Che è l'unica cosa che rappresenta l'Alloween e l'Abu Basket. Ah, pensavo che rappresentasse me. Poi, io non volevo aprire ora l'Abu Basket per questo motivo. Che sono degli occhi di... Cioccolato, di tiger. No, di no! Che rottura di cazzo. Spero che ti sia mangiato un pezzo di plastica. L'ultima cosa... No, lo dici con la bocca chiusa. L'ultima cosa... Ma non è l'importanza. Però questo è privato. Non è privato. L'ho già detto io. È privato per me. È un bacino per ogni volta che ne avrà bisogno. E guardate. Tutti i bacini. Oh, penso che mi mordessi. È tutto io. Io ho una cosa che posso dire. Luca Casadei. Adottami. Adottami. Per favore, adottami. Adottalo. Io non lo supporto più. Bravo. Luca, dai. Vengo su da Milano. Smenti, da spegniti il telefono. Ciao. È gelosa in Luca Casadei. Vabbè, scusatemi.